Sette punti in sette partite, tutti arrivati in una sola settimana contro Bologna, Palermo e Cagliari. Per il resto quattro sconfitte contro Inter, Torino, Sampdoria e Lazio, tutte con tre gol subiti. Sul ruolino di marcia iniziale del Pescara c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, il tecnico Giovanni Stroppa su tutti, e chi lo vede mezzo vuoto una buona parte della tifoseria. Quel che è certo è la difficoltà di questa squadra contro le blasonate della Serie A, ma le critiche alle scelte dell'allenatore e i giocatori in campo e con esse i primi fischi arrivano per l'atteggiamento contro la Lazio, senza grinta, senza reazione, senza un aspetto di squadra. A rassicurare tutti è proprio il 44enne tecnico milanese che difende le scelte operate e le potenzialità dei biancazzurri. Stanno crescendo, lo hanno dimostrato, non vedo i motivi per preoccuparsi e bisogna continuare a lavorare così. Quindi questo è un messaggio ai miei ragazzi, glielo ho detto a quattro occhi, ma devono continuare a credere in quello che stanno facendo e stanno facendo grandi cose. Ribadisco, bisogna continuare a lavorare così, non dobbiamo dimenticarci che abbiamo sette punti, abbiamo sette squadre dietro di noi, è vero che la classifica si è accorciata, ma abbiamo sette punti. Bisogna guardare la cosa in maniera ottimistica, vedere la squadra come si allena in settimana e io vedo una squadra viva, che crede nel lavoro e io non sono assolutamente preoccupato. Lei riesce a proiettare questa sua sicurezza al loro? Ma i ragazzi, io vengo qua a parlare con voi dopo che ho parlato con i ragazzi. Quindi riporto quelle che sono state le sensazioni di domenica, riporto quelle che sono le sensazioni settimanali del lavoro svolto, le porte sono aperte, avete visto, io mi auguro che abbiate visto come si allenano oggi uguale, come si allenano questi ragazzi. E quindi bisogna continuare così, sapendo che è difficile contro chiunque, non soltanto contro la Lazio, è difficile contro chiunque, però sapendo che si può soffrire insieme, e quindi parlo di atteggiamento, bisogna rivedere l'atteggiamento, rivedere quello di domenica o quello di Torino, tanto per fare un esempio a caso, e continuare a lavorare e credere nel gruppo. Dopo la sosta trasferta a Udine, intanto gli allenamenti continuano con le defezioni dei tanti convocati in under 21, giocatori dell'Italia che fra poco affronta l'Adriatico la Svezia e delle altre nazionali di categoria. Dal primo minuto ci sarà un solo biancazzurro in campo, Marco Capuano, al centro della difesa, ma potremmo rivedere il duo delle meraviglie di Zemaniana Memoria, insignia immobile, che nostalgia. E dopo che in occasione della partita con la Lazio un dirigente del Pescara, Alessandro Acciavatti, ha avuto un alterco con uno sportivo che voleva servirsi del bar della tribuna a Maiella, c'è una nuova polemica. Alcuni consiglieri comunali di opposizione chiamati in causa per la gestione del servizio scrivono al presidente Daniele Sebastiani, accollando alla società la responsabilità del diniego allo spettatore che arrivava da un altro settore dello stadio. Dopo la vicenda del taglio sugli ingressi gratuiti, una rivincita forse dell'amministrazione comunale che chiede comunque maggiore collaborazione.